Ciao, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i concetti di informatica. Oggi parliamo del teorema CAP, teorema fondamentale nell'ambito dei sistemi distribuiti. Si tratta di un teorema formulato originariamente come congettura da Eric Brewer nel 2000 e poi è stato dimostrato proprio come teorema, quindi con una dimostrazione matematica a tutti gli effetti, da alcuni ricercatori dell'MIT. Vi lascio poi dei riferimenti in descrizione se volete andare appunto a consultare la dimostrazione matematica. Noi diciamo in questo ambito non ci interessa più di tanto, ma cerchiamo di inquadrare qual è il problema. Allora stiamo parlando di sistemi distribuiti. Un sistema distribuito è un sistema che è costituito da più nodi interconnessi attraverso una rete. Quindi la questione qual è? Che in un sistema distribuito i dati sono disponibili su più nodi. Perché si realizzano dei sistemi distribuiti? Essenzialmente per due motivi. Il primo è di superare il limite rappresentato dal cosiddetto single point of failure, ovvero se io ho un unico nodo. Ora non ci interessa in questo caso se si tratta di un nodo fisico, una macchina virtuale, non è una questione rilevante. Ma comunque se diciamo la nostra applicazione gira su un unico nodo e questo nodo va giù per qualche motivo, di fatto non è più accessibile a nessun utente. Per cui avere più nodi significa garantire una maggiore affidabilità. Se cade un nodo ci saranno degli altri in grado di sopperire. Il secondo motivo alla base dei sistemi distribuiti è quello di poter gestire il carico applicativo, nel senso che ciascun nodo sarà in grado di rispondere alle richieste di alcuni utenti, per cui avremo un'architettura in cui le richieste che provengono dai vari utenti vengono smistate sui diversi nodi e quindi complessivamente riusciamo a gestire un numero di richieste maggiori di quelle che sarebbe possibile gestire con un singolo nodo. Detto questo cosa succede? Che se io ho normalmente un'applicazione che gira su un singolo nodo fondamentalmente non ho particolari problemi. Primo fra tutti il discorso della coerenza dei dati. Perché? Perché tutto è su un singolo nodo. Da quel nodo partono, o meglio, su quel nodo approdano le scritture, le modifiche e da quel nodo partono le letture. Non ci sono altre problematiche. Quando invece, come nei sistemi distribuiti, entra in gioco la rete, ecco che ci sono delle problematiche legate proprio alla presenza della rete. Ed arriviamo al nostro teorema. Prima di tutto partiamo dalla sigla CAP. Abbiamo tre lettere CAP, in effetti, quello è un acronimo che si basa su tre termini inglesi che sono consistency, ovvero coerenza, availability, ovvero disponibilità e la pista per partition tolerance, ovvero tolleranza al partizionamento. Vediamo di capire esattamente di che cosa si tratta. Allora, per coerenza indichiamo il fatto che gli utenti, i client, devono essere in grado di leggere sempre gli stessi dati a prescindere dal nodo che soddisfa una richiesta. Cioè, nel sistema distribuito abbiamo detto abbiamo tanti nodi, nodo 1, 2, 3, eccetera. Quando i dati vengono scritti sul nodo, per esempio si fa una scrittura sul nodo 1, questa scrittura deve essere replicata sugli altri nodi, in maniera tale che se la richiesta successiva dovesse essere processata dal nodo 2, dal nodo 3, si vedranno sempre gli stessi dati. In caso contrario la coerenza non è garantita perché magari su un nodo abbiamo un certo valore per un dato, su un altro nodo ne abbiamo un altro diverso e chiaramente le cose non vanno per il verso giusto. Il secondo termine, disponibilità, significa in sostanza che qualsiasi nodo venga contattato deve rispondere. Quindi se è garantita la disponibilità, qualsiasi nodo contattato deve rispondere. Quindi non può rifiutarsi, come dire ok mi è arrivata questa richiesta, non ti rispondo, aspetta che venga gestita da qualcun altro. La terza garanzia, il terzo elemento è la partition tolerance, ovvero il sistema deve essere in grado di funzionare anche nel caso in cui ci sia un malfunzionamento di uno o più nodi. Tipicamente quello che succede, che è appunto legato al discorso della rete, è che va da giù la connessione tra due o più nodi, per cui chiaramente i nodi non riescono più a comunicare tra loro. Bene, se è garantita la partition tolerance vuol dire che il sistema nel complesso deve essere in grado di funzionare anche in questo genere di situazioni. Detto questo, che cosa sostiene questo teorema K? In parole semplici che non è possibile garantire queste tre proprietà contemporaneamente, cioè si possono garantire due delle proprietà a scapito di una terza. Poi vedremo tra un attimo anche alcuni esempi pratici. Bene, ma come si dimostra questo teorema? Beh, abbiamo detto, c'è una dimostrazione di carattere formale, che appunto non faremo, ma cerchiamo di arrivarci semplicemente con delle osservazioni, perché poi fondamentalmente il teorema è abbastanza intuitivo. E quindi partiamo con un esempio semplicissimo. Supponiamo di avere due nodi, abbiamo un nodo 1 e un nodo 2, ok? Che sono collegati tra di loro, quindi sono in grado di comunicare tra loro. Allora, supponiamo che sul nodo 1 vengano effettuate le scritture, quindi andiamo a scrivere un certo dato, un valore di un dato, ok? Se è garantita, è chiaro che se ci fosse solo quell'unico dato, scritture e letture vanno su quel dato, diciamo che non ci sono problemi. Nel caso in cui abbiamo due nodi e vogliamo garantire la coerenza, bene, tutte le scritture che si fanno sul primo nodo devono essere replicate sul secondo nodo. Semplicissimo. Questo perché in caso contrario noi avremmo sul nodo 1 un dato, sul nodo 2 un altro dato e quindi non sarebbe garantita la coerenza. Cioè andando a effettuare per esempio un'operazione di lettura, avremmo valori diversi a seconda del nodo che ci risponde. Quindi se, come dire, introduciamo la possibilità di replicare questi dati, in pratica stiamo cercando di garantire quella che è detta appunto coerenza. La disponibilità invece si raggiunge, cioè si aggiunge nel momento in cui noi diamo la possibilità a tutti i nodi di rispondere alle richieste. Quindi il client fa una richiesta al nodo 1, fa una richiesta al nodo 2 e in un caso null'altro entrambi i nodi rispondono. Cosa succede nel momento in cui andiamo ad aggiungere la partition tolerance? Che praticamente tra il nodo 1 e il nodo 2 cade il collegamento, cioè non sono più in grado di comunicare tra di loro. E però in questo caso il sistema deve essere in grado di funzionare. Allora vediamo che cosa succede, cioè come non è possibile garantire tutte e tre. Allora supponiamo che i due nodi non siano in grado di comunicare, quindi è garantita la partition tolerance, è garantita la disponibilità, quindi stiamo dicendo che qualsiasi nodo venga interrogato deve rispondere. Cosa succede se un client fa una scrittura, quindi una modifica, sul nodo 1. Quindi il nodo 1 ha un dato aggiornato. Diciamo che ci sia una variabile v che inizialmente ha valore v con 0 su entrambi i nodi, adesso il client la va a modificare in un valore v 1. Non essendoci il collegamento tra i due nodi, il secondo nodo, il nodo 2, avrà ancora il valore vecchio v con 0, che non è stato sincronizzato, non è stato aggiornato. Se però appunto il sistema continua a funzionare perché è garantita la partition tolerance e garantisce la disponibilità, se il client fa una seconda richiesta e questa richiesta di lettura della variabile v viene processata dal nodo 2, nodo 2 che deve comunque rispondere perché è garantita la proprietà, ecco che il valore che viene restituito sarà v con 0 e non v con 1, cioè abbiamo garantito la tolleranza ai guasti, la partition tolerance. Abbiamo garantito la disponibilità ma non vale la coerenza perché i due nodi non sono in grado di allinearsi tra di loro, cioè in pratica abbiamo un dato inconsistente, cioè da una parte ha un valore e da una parte ne ha un altro. Lo stesso discorso vale se cambiamo proprietà, nel senso allora supponiamo di appunto voler comunque garantire, abbiamo visto in questo esempio che partition tolerance e disponibilità mandano fuori la coerenza. Supponiamo che invece sia la coerenza che noi vogliamo necessariamente garantire. Non possiamo garantire le altre due perché, allora, se vogliamo coerenza, cioè che tutti i nodi abbiano lo stesso dato, o garantiamo anche la partition tolerance, cioè il funzionamento anche in caso di caduta del link, però a questo punto i nodi che non sono sincronizzati non devono rispondere perché darebbero un dato incoerente e quindi non possiamo garantire la disponibilità. Se al contrario vogliamo garantire la coerenza e allo stesso tempo la disponibilità, cioè fare in modo che tutti i nodi rispondano una volta interrogati, chiaramente non possiamo garantire la partition tolerance, cioè non possiamo garantire che ci siano delle cadute di collegamenti perché in quel caso verrebbe meno la sincronizzazione e quindi verrebbe meno la coerenza. Quindi diciamo che senza dimostrazioni eccessivamente formali è una questione abbastanza logica, basta ragionarci un po'. Poi da un punto di vista grafico questa situazione viene rappresentata anche attraverso i diagrammi insiemistici. Ci sono i tre insiemi che in qualche modo rappresentano le tre garanzie, le tre proprietà e si fa vedere che nelle intersezioni, le intersezioni consentite sono solo quelle a coppie, ma non c'è la possibilità di intersecare tutti e tre questi insiemi, cioè di avere tutte e tre le proprietà dimostrate, diciamo, soddisfatte contemporaneamente. Quindi in sostanza abbiamo capito che bisogna fare delle scelte, cioè se abbiamo un sistema distribuito dobbiamo decidere quali due proprietà ci interessa garantire a scapito della terza. Nel mondo reale esistono degli esempi di queste coppie. Adesso li vediamo un po' rapidamente. Per esempio, se consideriamo la coppia AP, cioè la coppia in cui noi garantiamo la disponibilità, partition tolerance, a scapito della coerenza, bene un tipico esempio è il DNS, cioè il sistema di gestione dei nomi di dominio. Quello che praticamente traduce il nostro www.google.com nel relativo indirizzo IP, diciamo della macchina su cui è ospitato, in questo caso Google, o è ospitato il nostro sito. In questo caso che cosa succede? Che si vuole che il sistema continui a funzionare sempre, quindi indipendentemente da malfunzionamenti nella rete, e che sia appunto disponibile, cioè che qualsiasi server DNS andiamo a contattare, risponda. In questo caso però non è garantita la coerenza e questo probabilmente l'avete già sperimentato se avete un sito e quindi a un certo punto andate a cambiare il puntamento del sito, cioè avete il vostro sito, per esempio nel mio caso mclab.net, che punta ad uno spazio, diciamo ad un hosting, diciamo ad un server su cui sta girando il sito stesso. Se a un certo punto cambio il provider, cambio l'hosting, cambio questo puntamento, faccio un aggiornamento nella voce del DNS, però l'aggiornamento può richiedere ore o addirittura giorni prima che tutti i nodi del DNS siano allineati. Questo significa che se io contatto un certo server DNS mi risponderà magari con il puntamento del vecchio hosting, se contatto un altro mi risponderà già con il valore aggiornato. Quindi non c'è coerenza nelle risposte, però il sistema continua a funzionare anche in caso di guasti e comunque tutti i nodi comunque mi rispondono, quindi sono garantiti appunto la, abbiamo detto, disponibilità e partition tolerance. Per quanto riguarda invece la coppia CA, cioè coerenza e disponibilità a scapito del partition tolerance, beh l'esempio più classico è rappresentato dai database relazionali, quindi i classici MySQL, Postgres, SQL Server, eccetera, dove essendo questi database proprio per la loro natura, cioè sistemi relazionali, sono sistemi basati sui valori dei dati, valori degli attributi, tutte le interrogazioni, tutte le operazioni si basano su questo. Quindi l'importanza della coerenza è fondamentale. Questo a scapito, abbiamo detto, del partition tolerance. Vuol dire che in sostanza questi sistemi devono garantire che nel momento in cui si fanno delle scritture, queste scritture siano allineate su tutti i nodi, quindi non di opportuni meccanismi di replica, prima che la scrittura possa essere ritenuta valida, diciamo possa essere confermata, ma proprio per evitare situazioni di incoerenza dei dati. E ovviamente il discorso della disponibilità, cioè di poter rispondere e di poter fornire questo dato. Questo dicevo a scapito della partition tolerance e quindi se c'è praticamente la caduta di un link, un malfunzionamento nella rete, in pratica il sistema non funziona, però non fornisce dati incoerenti. Per quanto riguarda invece la terza coppia, CP, cioè coerenza partition tolerance a scapito della disponibilità, beh in generale diciamo che queste soluzioni non sono molto comuni. Perché? Perché la natura stessa del sistema distribuito, per i motivi che ho detto proprio all'inizio del video, è quello di garantire un elevato livello di disponibilità. Quindi questo significa che siccome nelle reti è molto comune, è molto frequente la presenza di malfunzionamenti, cadute di interruzioni, eccetera, è chiaro che quindi avere un sistema partition tolerant è fondamentale. Escludere questa proprietà è un po' un certo senso un controsenso. Tuttavia però, per esempio, tutte le applicazioni che hanno a che fare con il mondo del banking, nel mondo della finanza, cioè laddove si trattano soldi, che poi fondamentalmente sono alla base della nostra vita, bene in questo caso si può avere a che fare con soluzioni di questo genere. Nel senso che si hanno soluzioni in cui è fondamentale garantire la coerenza, perché se stiamo facendo delle transazioni non possiamo evitare che queste transazioni, come dire, siano sincronizzate su tutti i nodi e che ci sia appunto un sistema che sia, come dire, tollerante al partizionamento e quindi che continua a funzionare anche in caso di cadute. Però chiaramente qui, proprio perché c'è il rischio che alcuni nodi non siano sincronizzati tra loro, allora la disponibilità viene un po' messa in secondo piano. Cioè è più importante che la mia transazione sia, come dire, registrata su tutti i nodi, piuttosto che un nodo mi restituisca, pur di rispondere, mi restituisca un dato incoerente. Questo è presto detto, cioè se io sto facendo per esempio un bonifico, faccio un prelievo dal mio conto, quindi questa operazione viene gestita da un nodo e quindi il mio saldo diminuisce di un certo importo. Se la richiesta successiva viene processata da un altro nodo che non è stato ancora allineato, io rischio di avere delle informazioni diverse sul saldo del mio conto. Cioè da una parte il conto risulta con un valore inferiore perché ho fatto il bonifico, dall'altro invece risulta con l'importo non ancora prelevato e quindi questa è una situazione molto pericolosa. Allora in quel caso, piuttosto che avere una disponibilità con un dato incoerente, meglio non avere disponibilità e garantirsi appunto che tutti i dati siano allineati su tutti i nodi. Naturalmente abbiamo accennato al caso precedente dei database relazionali, però in realtà poi tutto il discorso del teorema CAP trova una vasta applicazione nell'ambito dei database e quindi praticamente ci sono diverse soluzioni database, soprattutto tra database relazionali, database non SQL di cui ne esistono tanti, per cui diciamo che a seconda delle proprietà che si vuole garantire si andrà a scegliere una tipologia di database piuttosto che un'altra. Abbiamo detto per il CA principalmente i database relazionali, mentre per i NoSQL in realtà poi esistono delle differenze. Ma siccome è un argomento un po' più complesso, quindi come si applica il teorema CAP nell'ambito dei database relazionali e NoSQL, ne parleremo in un altro video. Quindi per il momento è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e in questo caso mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti. Se volete sostenete il canale nelle varie forme che trovate in descrizione. Ci vediamo la prossima volta per parlare ancora dei concetti di informatica. Grazie, ciao!